buongiorno a tutti ragazzi se vi ricordate adesso faccio un rispetto noi andiamo a sistemare le cose a son di schiaffi sulla gola ok a proposito si a proposito un cavolo fateci qualche domanda sui commenti vi romperò finché non ne farete qualcuna quindi è meglio se le fate è la parte giusta questa probabilmente sì aia non mi piacciono questi tizi graziosi guarda sono già con le break calate per tutto per te puttana neanche pesante sta roba quanto devo girare ancora quando scommettiamo che tra un po si risvegliano ci sono già stato con mi ricordo no questo con altre volte cazzo a sono cani che si vale un po cazzuti ma sta scherzando e va bene ma basta con sta impresa ma non c'è un canile qua sotto morti morti quasi 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 mancano po e basta costi sempre farlo prela sti cani ancora ho un'abitudine morto no e adesso credo sia morto e ha un'altra statua come c'è finita con la spalla e sia la bella mira sei il fantasma di sparta tutti sanno chi sei tutti hanno paura di te io non ho paura di te e questo è un bene la paura è un partello pesante io non sono una bambina kratos non importa ciò che sei è altro ciò che mi interessa kratos ti prego libera mi ne ho bisogno anche la lotta per la libertà non posso oh si torna cazzuti con la spada dell'olimpo finalmente porca troia questa qua rompe il culo ma ogni conto posso usare stabilità poco rompe i culi questa guarda che roba ho premuto tasti a casa è vero ma ma roba i culi lo stesso ok chi viene giù per primo non tutti e due vero no tutti e due ok una l'ho porca troia i ganker ooo ci vanno male in due bastardi ok se ho fatto le sentinelle della ruina posso fare anche questo ma se lo sparano addosso anche mossa no 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 sta fermo sta fermo sta fermo ecco qua bene e una testa andata eh li odio questi qua quando sono in due non me li ricordavo così cazzo ed ecco che muore madonna cara torna al canile porca ternavio dai resisti te ora stronzetto cosa fai sentito amichetto bastardo non è neanche i coglioni di farlo uno contro uno io rido ma le sto prendendo no 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 non posso morire così non posso morire così che cazzo stiamo facendo oh è andata è andata è andata ce l'abbiamo fatta non lo sapevo pensavo con le frecce ma che cazzo vuoi che faccia no cazzo le mi hanno dato tutta la vita eh posso posso ora solo ora l'hai capito è un meraviglio di come faccia a sollevare un portone così se avete visto bene si era incantato un po' a metà piuma di diaro no 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 ecco un'altra anima in pena quante sono le anima in pena qua ade io ti imploro ai cancelli del tuo palazzo dammi il solde non sono forse diventato tutto ciò che volevi i miei debiti se non sono stati ripagati per quanto ancora dovrò sperare in un salvataggio che non avverrà mai lui diventa un dio mentre io soffro e mi consumo liberami così che io possa avere la mia vendetta parla di me meglio parlava contro di me quindi chi era vendetta vendetta che c'è il fratello probabile eh hai un albero in casa è un partito del giardinaggio eh non mi piace questa casa posso cambiarla davvero è brutta aia no minotauro no masochista di merda no credo che qualcosa mi abbia salvato il culo eh vabbè sto cane di me porca troia siamo un super saiyan abbiamo rotto un'impaccatura e vabbè ma che sti cani di merda però potrebbero levarsi dai coglioni ora siamo ancora due contro uno ma da dove ma torna ma fanno collaborazione sti qua guarda lì guarda lì ora 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 chiacchierata da uomo a toro ma si è bagato qua non fare coglioni ma cosa? cosa? lo spammo contro il muro adesso non si muove più non si muove più dai guarda guarda che roba si è bagato eh porca puttana oh e anche il secondo eh finalmente è andato si è andato decisamente qui giace forsephone regina della di là e sposa di ade immagino immagino che l'abbiamo ucciso noi perché noi uccidiamo tutti ma stanno quanto mi ricordo dobbiamo prendere questo qua e portarlo di là eh vabbè il cancello si chiude ma tanto chi è che ci vuol torno là eeeh che palle disertore me ne vado aha ecco così si chiude lentamente così dopo non si risbloccherà più e lo lasciamo qua ora ti stupro la statua bastardo ora sono io a godere delle tue sofferenze puttana l'abbiamo fatto apposta o ci siamo o se è stata una conseguenza che ci siamo trascinati dentro ah si anch'io ok vediamo si è messa in mezzo si è messo lui in mezzo voleva uccidermi questo non me lo ricordo e' tutto buio ah ti ho trovato ti ho trovato sto alle spalle madonna non hai le palle di venirmi davanti no dietro mi vieni stesta di ca ci credete che li sto già prendendo guarda li sto prendendo è un tipico come è già morto da capo ok devi imparare le mosse devi imparare le mosse ah si è incazzato si è incazzato si è incazzato no ah ah me la ricordo questa me la ricordo quella falta mi ricorda ah no 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 sto scherzando sto scherzando sto scherzando non possiamo non possiamo parlare michevolmente da da lui tecnicamente ci arriva in mezzo giusto non potresti parlare michevolmente con il tuo nipote no 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 devi ucciderlo no mi ha preso come mi hai chiamato come mi hai chiamato scusa mortale io nel dubbio saltate no porca merda conversazione amichevole da Kratosade lo stacca ah eh sì questa qua è cattiva anche per te dobbiamo uccidergli il pezzo di pelle bene ora sei morto ah cattivo ora so dove so cosa devo fare lo so lo so dov'è 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 andata dov'è andata andata una chiara andata una chiara porca tro per poco chi è che non scriverebbe quell'attacco oh chi è che non scriverebbe quell'attacco dai ditemelo qualcuno 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 l'ha mai subito quel pestone no eh vabbè qua mi è mancato dai qua mi è mancato ma dove no 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 i cerberi no i cerberi no i cerberi no i cerberi da capo ma come che l'ho bersagliato fino adesso ma come schifo i testi ma co ah mi è manca ma vedete i cerberi vanno avanti è di finito ma dovevo parare qua cazzo non mi ricordavo guardi che sinceramente io in questa fase l'ho presa e basta ora ora cos'è che ti tolgo madonna cara ti tolgo la vita sì e no e quando muori torno a trovarti per ammazzarti ancora e ora ok si è arrabbiato si è arrabbiato molto ah ah e ora ah ci stiamo tirando uno contro contro oh madonna era ora che ti che passi ah come hai fatto a passarlo come hai fatto a passarlo così adesso mi diverto adesso mi diverto figlio di troia tutte le volte che mi hai fatto morire adesso ti faccio morire io madonna e se non basta torno giù nell'acqua ah artiglia oh finalmente l'abbiamo ammazzato questi crudelli uncini sì sì vabbè quello là eccetera 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 ora c'è la prova non sono per niente male come armi anche se io preferisco le vecchie spade del caos che ho fatto due capitoli e anche questo con le spade del caos quiiii è per trollarlo così dai non è vero l'ho schivato l'ho schivato le prove ah che peccato appiglio 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 e arriva prima magari eh invece è tirato una merdata e da dietro dobbiamo farglielo to adesso credo che lo uccidiamo in modo definitivo cadere nevo dai che ti apra la testa in due come un uovo ah no ti sorbo la l'anima credo che se lo so l'anima sì la sua anima ora diventiamo fortissimi e abbiamo anche l'anima di un Dioras ora siamo ufficialmente un Dio è finito? o no? eh sì il flusso è finito quindi è morto quasi ah tutte le anime si liberano e e vanno per i cazzi poveri ora bene eh angeli e uccelli deformati bruttini già ah non è ancora morto? oh sì vado finalmente amore quanto tempo ci ho piegato ucciderlo un'ora due ore oh finalmente cambiamo le armi che fa nulla ma voi ragazzi è stato difficilissimo batterlo sono un direttore inciampato su oh sono inciampato su youtube come battereade punto com e e basta e si è stato tanto difficile spero spero sia il più forte perché se sono tutti così vaffanculo e butto via il gioco ok ciao a tutti e continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti